Non solo il settore turistico, ma parliamo anche di FIAIP, in chiave Lombardia, per quanto riguarda un settore strategico, quello di estero, e entrambi i settori sono seguiti proprio dalla delegata regionale Angela Bianchetti di FIAIP Brescia, ma ormai lei personifica FIAIP Lombardia nelle sue corde, vero? Sì, allora parallelamente alla delega turistico ho ricevuto la delega estero, e quindi il mio compito sarà anche quello di promuovere Lombardia a livello internazionale. E parallelamente cercherò di attrarre gli investitori stranieri in Italia affinché acquistino immobili che una volta abitati da loro per un periodo di tempo, perché questa è la prassi dell'investitore straniero, poi consentano di mettere questi immobili a reddito. E qui ritorniamo ancora all'affitto turistico, all'affitto breve. Quindi non dimentichiamo poi, infine, cosa decisamente molto importante, la nomina di città della cultura delle due città lombarde, Brescia e Bergamo. Io sono bresciana, quindi ci tengo particolarmente. Cercherò di investire le mie forze a livello internazionale, oltre che ovviamente nazionale, affinché queste due città vengano valorizzate per le città d'arte, per i monti e i laghi che esse hanno sul loro territorio. E facendo scattare questo interesse ancora al turista, perché il turismo riteniamo che sia il motore, la vera benzina che fa ripartire l'economia delle due città, chiaramente, ma della Lombardia tutta intera. Ecco, FIAIP in questo ci crede. FIAIP vuole che il turista o l'investitore che arriva nella nostra regione sia accompagnato dal settore nostro di agenti immobiliari professionali.